Nel consiglio appena concluso si sono discusse molte importanti iniziative che hanno un alto valore per la nostra regione, ma anche in questo caso per il nostro Paese, perché come sapete è stato votato il delegato per l'elezione del Presidente della Repubblica, che è il cosiddetto grande elettore, come abbiamo già denunciato in aula, è stato eletto il Presidente della Regione, ma la sua maggioranza ha avuto un tale timore di non trovare i voti per alleggerlo, che come abbiamo suscitato c'è il sospetto che ci sia stato un accordo per non trovare una quadra per vedere quali gruppi esprimevano quale consenso e quali invece non lo esprimevano. Noi chiaramente riteniamo che non fosse una scelta condivisibile, quindi non abbiamo ritenuto opportuno votarlo. Al di là di questo sono state, dicevo, oltretanto numerose iniziative di questo Consiglio, in particolare mi permetto di evidenziare quattro di queste iniziative, due che sono state accolte, la prima è stata quella di un approfondimento, di un programma di inclusione delle persone disabili nelle attività della montagna e nei comprensori sciistici, una politica sicuramente importante a tutela proprio di chi è più svantaggiato e poi un'altra iniziativa che con una risoluzione ha impegnato il Consiglio e il Governo a valutare a fronte della chiusura, dello spostamento dell'Istituto Turistico da Semminsan in un'altra zona della Valle, a valutare una di implementare, di installare una struttura che, come dire, individui una struttura sportiva e quindi un liceo sportivo proprio nella media valle per farsi innanzitutto di colmare un vuoto perché la nostra regione è l'unica regione priva di questa organizzazione e in secondo luogo chiaramente anche per differenziare l'offerta formativa della nostra regione e metterla a concorrenza con le altre. Purtroppo due noto dell'Onti, ovvero altre due iniziative purtroppo respinte dal Consiglio del Governo regionale, la prima quella che chiedeva di resistere in giudizio e di trovare ogni modalità, e lo abbiamo ampiamente documentato in aula, nel non utilizzare i soldi che erano stati pensati per i ristori e le aziende nei pagamenti all'agenzia delle entrate, come sapete moltissime aziende che hanno fatto questo tipo di domande si sono viste pignorare questo tipo di indennità che è a tutti gli effetti di indennità per situazioni di debitoria e pregresse, ma come abbiamo spiegato ampiamente in aula questo non era assolutamente dovuto, e infine abbiamo chiesto di rivalutare e di dare in forma diversa quelli che sono i risultati dei contagi settimanali, contagi che come ha indicato il report Fiaso, uno studio fatto su sei maggiori ospedali del nostro paese, ha evidenziato che il 34% dei ricoveri dovuti a Covid in realtà non porta a ospedalizzazioni proprio causate dal Covid, quindi non ho problemi polmonari ma sono problemi di altri tipi e quindi evidentemente con questa nuova classificazione, quindi togliendo dai dati del contagio questo tipo di ospedalizzazioni avremmo potuto evitare e potremmo evitare sia zona regione che zona rossa che come sapete vengono fatti in virtù proprio del diffondersi dei contagi. Queste due proposte purtroppo sono state bocciate dalla maggioranza che non le ha valutate chiaramente convenienti o utili, noi però su questo insistiamo, riteniamo che siano due proposte di buon senso e continueremo a proporle nelle sedi opportune. Grazie